Benvenuti al vostro oroscopo di oggi. Siamo qui per guidarvi attraverso le stelle e svelarvi i segreti che il destino ha in serbo per voi. Preparatevi a scoprire cosa vi riserva l'orizzonte astrologico di oggi. Segno Ariete. In campo amoroso, per raggiungere un momento di svolta, è importante accettare appieno ciò che avete già conquistato e preservare le emozioni, che sono fondamentali per rendere la vita più ricca. Il cielo si presenta favorevole, incoraggiando la vostra determinazione nel lavoro, specialmente se appartenete alla terza decade del segno. Per quanto riguarda la salute, oggi potrete godere di un ottimo stato di forma. Tuttavia, ci sono anche dei punti deboli da tenere d'occhio, come ad esempio la colonna vertebrale e il sistema nervoso, che possono essere un po' sensibili. Anche la cervicale potrebbe manifestare sintomi, specialmente in presenza di correnti d'aria o movimenti bruschi. Pensate alla fortuna che state vivendo in questo momento. Venere non vi abbandonerà e promette un ottimo esito nel campo affettivo. Per i single, tutto sembrerà più semplice sin dalle prime ore del giorno. Questa giornata si prospetta ideale per prendere decisioni cruciali per il vostro futuro. Potrete finalmente apprezzare la serenità che in passato avreste potuto percepire come solitudine. È importante gestire con astuzia le situazioni lavorative a vostro vantaggio. Giornata positiva per gli artigiani. La chiave del successo sarà l'interazione con gli altri. Segno toro. Per mantenere l'armonia con il vostro partner, a volte è fondamentale dimostrare diplomazia. Controllate i vostri istinti, evitate critiche e accuse e non seguite ciecamente iniziative inutili. I single potrebbero trovarsi di fronte a sfide, ma la luna vi ricorda che il passato è parte della vostra esperienza. Il passato può essere uno strumento di crescita e sviluppo personale, permettendovi di plasmare la vostra vita secondo i vostri desideri. Potreste sentire pressioni e responsabilità legate al lavoro, ma la vostra capacità di gestire lo stress e mantenere la calma sarà cruciale per affrontare le sfide con tranquillità. Evitare interferenze familiari che possano influenzare la vostra relazione potrebbe essere un compito difficile, richiedendo un grande equilibrio. Sul fronte lavorativo, siete molto abili e pieni di energia. Non esitate a dare una mano ai vostri colleghi e amici guardando avanti e intorno a voi. Per quanto riguarda il benessere, se vi sentite stanchi potreste avvertire qualche lieve fastidio. Un consiglio. Cantate, indipendentemente da come vi sentite. In famiglia, tutto sembra procedere serenamente, quindi evitate discussioni inutili. Non perdonate sempre chi vi ferisce, altrimenti si abitua. Segno gemelli. Nella vostra relazione di coppia, la vostra personalità carismatica si farà notare e l'armonia sarà predominante. Vi piacerà prendere l'iniziativa nella vostra relazione. I cambiamenti interiori avranno un impatto positivo sul legame di coppia e ne rinforzeranno la solidità. Per i single, l'energia vitale sarà al massimo, accompagnata da una costante gioia di vivere. Approfittate di questo periodo poiché la vostra mente sarà più lucida e le vostre capacità analitiche eccezionali. Sul fronte lavorativo, nuove opportunità di innovazione vi spingeranno verso nuovi orizzonti, portandovi benefici finanziari. Non temete la solitudine, essa può essere rigenerante. La vostra costanza vi ha permesso di raggiungere il successo lavorativo attuale, quindi siate fieri di voi stessi. Concentrate tutte le vostre energie mentali e fisiche sul lavoro, ma fate attenzione a non esaurirvi. Pensate anche al vostro benessere. Le stelle vi invitano a prestare maggiore attenzione alla famiglia, per renderla più felice e armoniosa, nonostante alcune influenze planetarie possano rendere instabili legami preesistenti. Guardate il lato positivo delle cose. Segno cancro. Si prospetta un periodo estremamente positivo in termini di romanticismo e l'armonia con il vostro partner raggiungerà livelli elevati. Vi sentirete amati e la passione crescerà notevolmente. Un nuovo progetto potrebbe prendere forma. Per i single, Venere sarà dalla vostra parte, guidandovi nel mondo dell'amore. Tutto sembrerà cadere al suo posto, nuovi incontri, riconciliazioni, e progetti importanti per il futuro. Sarà il momento di provare gioia e abbracciare le opportunità che la vita vi riserva. Sul fronte lavorativo, la vostra intuizione sulla strada da seguire sarà acuta. Sarete in grado di affrontare le sfide con determinazione grazie alla vostra spiccata capacità di osservazione e al coraggio necessario per portare avanti le iniziative. Nel campo dell'amore, i pianeti non tollerano illusioni superficiali e iniziano un processo di riconciliazione anche con voi stessi. Per quanto riguarda la salute, ricordatevi di prendervi cura di voi stessi in ogni situazione e di non esagerare con lo stress fisico e mentale. Evitando discussioni eccessive, potrete vivere in famiglia con maggiore serenità. Nella vita, è più importante avere capacità di perdonare che di essere perfetti. Segno leone. Sotto l'influenza di Mercurio, manterrete una chiara visione nelle relazioni e apprezzerete il supporto del partner in ogni circostanza. Avrete la consapevolezza di avere al vostro fianco qualcuno che vi sosterrà in ogni impresa, portando gioia nel vedere il vostro legame crescere positivamente. Per i single, avrete tutte le risorse necessarie per rendere una giornata speciale e indimenticabile. La serata si prospetta divertente e movimentata, con alcune emozioni intense che faranno battere il cuore all'impazzata. Sul fronte lavorativo, sarete incoraggiati da tecnologie all'avanguardia che vi porteranno a una significativa crescita. Per quanto riguarda la sfera amorosa, potrebbe non essere un periodo di sorprese eccellenti per i progetti di coppia più importanti. I nati sotto questo segno sono noti per la loro affidabilità in vari settori, il che potrebbe portare al riconoscimento dei vostri sforzi nel lavoro. Oggi potreste manifestare un comportamento tranquillo con un ritmo leggermente più lento. Se lo desiderate, dedicate del tempo alla famiglia per risolvere eventuali incomprensioni. Ricordate sempre che anche la giornata più difficile giungerà al termine. Segno vergine. L'oroscopo del 25 aprile evidenzia un forte desiderio di libertà. Tuttavia, è fondamentale considerare che ciò potrebbe generare tensioni con il partner. Alcune decisioni legate alla relazione di coppia potrebbero causare problemi. Pertanto è consigliabile riflettere attentamente e aprire un dialogo con il vostro partner. Per i single, potreste reagire in modo eccessivo su temi sentimentali, ma la vostra mente razionale vi aiuterà a gestire le emozioni in modo equilibrato. Con Mercurio in una posizione sfavorevole, aumentare i momenti di condivisione sul lavoro è essenziale per creare un clima di fiducia con i colleghi. Se ci sono discussioni d'amore, potrebbe essere meglio fare un passo indietro. Gli astri dissonanti potrebbero spingervi a dire cose di cui poi vi pentireste. Sul fronte lavorativo, una configurazione astrale favorevole potrebbe darvi l'energia per partire a razzo e trovarvi in pole position. Non dimenticate di dare una mano ai vostri colleghi e amici, mentre la vostra carica si manifesta nella serenità e nello sport. Se ci sono stati dissidi familiari in passato, sembra che tutto si sia chiarito e la spensieratezza sia tornata in casa. Accettatevi per quello che siete. Segno bilancia. La settimana si prospetta tranquilla. Riempiete le vostre giornate con scoperte divertenti per evitare che la noia prenda il sopravvento. Potrebbero riaccendersi amori del passato, mentre per i single, piccoli segnali positivi potrebbero portare a una serenità duratura in tempi agitati. Sul fronte lavorativo, superate le vostre debolezze, specialmente quelle superficiali, e mantenete gli impegni presi. Per i progetti di coppia più importanti potrebbe non essere il momento delle sorprese eccellenti. Avete un nuovo capo che vi dimostra fiducia e vi concede libertà d'azione. Il cielo è dalla vostra parte. Dedicate del tempo a voi stessi per beneficiare del benessere interiore. Gli astri vi sostengono negli affari familiari e potreste fare un primo passo. Si vedono i veri amici nei momenti di bisogno. Per diversi giorni, affronterete la sfida di gestire il disagio che provate nei confronti di situazioni o individui. Anche coloro che solitamente si comportano con calma e diplomazia potrebbero sentirsi spinti a manifestare con determinazione. A partire da giugno, inizierà un nuovo capitolo della vostra esistenza e recupererete ciò che vi è stato sottratto per lungo tempo. Segno Scorpione. L'assetto celeste dissonante potrebbe rallentare lo sviluppo dei vostri progetti di coppia, che potrebbero rimanere momentaneamente in pausa. La vostra determinazione si rivela vincente sul fronte lavorativo, dove potrete dimostrare di essere i migliori. Grazie alla generosità astrale, potrete aiutare i colleghi in difficoltà. Per mantenere la salute fisica e mentale, praticate esercizio fisico, meditate e riducete lo stress. La situazione in famiglia procede serenamente, quindi potete concentrarvi su altri aspetti senza preoccupazioni. Fate del bene senza pensarci, fate del male e rifletteteci. In amore, desidererete essere al centro dell'attenzione del partner e organizzerete una serata romantica per rafforzare il legame. I single troveranno soddisfazione in incontri sociali. Organizzandovi adeguatamente, riuscirete a portare a termine con successo un progetto. Sul fronte lavorativo, si prospettano nuovi accordi e contratti. Segno Sagittario. Non lasciate che le opinioni degli altri influenzino la vostra autostima e il vostro percorso di vita. Concentratevi sui vostri obiettivi con determinazione. Nell'ambito delle relazioni, sfruttate il vostro fascino e la vostra sensualità per creare legami significativi con il partner. I single potrebbero sperimentare turbamenti emotivi sotto l'influenza della luna. Sul fronte lavorativo, unite metodo e creatività per trovare soluzioni originali e efficaci, ottenendo presto risultati positivi. Il periodo amoroso richiede una buona organizzazione per non disperdere le vostre enormi energie a disposizione. È il momento ideale per valorizzare le vostre risorse, stabilire alleanze efficaci sul fronte lavorativo o cercare l'opportunità giusta per avviare partnership favorevoli sotto legida degli astri. Nessun contrattempo vi potrà scalfire se mantenete un pensiero positivo come vostra arma. Solo il vostro aspetto potrebbe richiedere un aggiornamento a fine mese. Se il lavoro vi assorbe molto, state attenti alle dinamiche familiari per evitare frizioni. La vita è fatta di scelte continue, quindi non preoccupatevi se non sono tutte perfette. Segno capricorno. L'andamento astrale potrebbe mettervi di fronte a sfide nel conquistare il cuore di qualcuno o nel corteggiamento. Le stelle sono favorevoli ai nati sotto il segno del capricorno, rendendo tangibili i risultati dei vostri sforzi operativi con adeguati guadagni. Giornata propizia per qualsiasi attività lavorativa. Approfittatene al meglio. Se sorgono incomprensioni in famiglia, cercate di risolverle ascoltando chi vi è vicino. Anche se il tramonto vi porta malinconia, ricordate che presto sorgerà un nuovo giorno. La metà della settimana si prospetta abbastanza positiva, senza particolari eventi eccezionali. Evitate di dare troppa importanza alle vostre opinioni, specialmente nelle prime ore. In amore, godetevi la compagnia del partner e della famiglia, trovando armonia nei piccoli piaceri quotidiani. I single dovrebbero liberarsi da pensieri negativi e concentrarsi su ciò che conta veramente. Organizzatevi per affrontare con determinazione le questioni in sospeso. Nel campo amoroso, si presenteranno opportunità interessanti, ma è importante mantenere la lucidità. Sul fronte lavorativo, siate attenti e cogliete le opportunità che si presentano. Segno acquario. Le stelle prevedono una giornata complicata, ma non disperate, potrebbero esserci complicazioni. Concentratevi sulle attività principali. In amore, cercate equilibrio, evitando atteggiamenti contraddittori e mostrando rispetto al partner. Per i single, superare la timidezza potrebbe attirare l'interesse di qualcuno. Mantenete la fiducia in voi stessi. Sul versante lavorativo, affrontate le situazioni critiche con calma e risolutezza. Nelle relazioni sentimentali, guardate al futuro anziché rimuginare sul passato. Ogni traguardo professionale raggiunto è per voi un punto di partenza per nuove sfide. Seminate e lavorate con impegno in vista di progetti futuri più prosperi. Avete risorse finanziarie a disposizione, ma ricordate che il denaro risparmiato è denaro guadagnato. Per quanto riguarda la salute, potreste aver avvertito stress ultimamente, ma presto vi sentirete meglio prendendovi cura di voi stessi. Potrebbero esserci tensioni in famiglia. Cercate di mantenere la calma per non compromettere i legami familiari. Non sprecate tempo ed energie ad aiutare chi non lo desidera. Segno pesci. Oggi potrebbe non essere la giornata migliore per le relazioni amorose. Potreste sentirvi incompresi e avere difficoltà a esprimere i vostri sentimenti. Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi soddisfatti dopo aver completato un progetto importante. Per quanto riguarda il benessere, potreste non essere al massimo delle energie, ma vi vedrete riflessi uno sguardo piacevole e luminoso, segno che non siete così in basso come potreste pensare. Questo periodo potrebbe aiutarvi a risolvere questioni familiari o legate ai beni, a patto di evitare conflitti e nervosismi in famiglia. È meglio non dire una parola di troppo piuttosto che una di troppo. A metà settimana la fortuna sorride, specialmente in amore. Aspettatevi buone notizie e soddisfazioni. Potreste avere intuizioni geniali che porteranno a progressi significativi. Per le coppie, l'ansia sarà sostituita da notizie positive, grazie all'influsso positivo di venere. Condividete passioni, sogni e progetti con il partner. I single potranno godere di momenti sociali e divertenti, tra cene e feste. Sul fronte lavorativo, cogliete le nuove opportunità che si presenteranno.